Un film toccante, delicato e profondo, che affronta una realtà, quella dei bambini tibetani abbandonati, spesso volutamente ignorata. Con questa motivazione la giuria della quindicesima edizione del Cervino Cinemonte in Film Festival ha assegnato il Grand Prix de Festival con sede della Vallée a Goodbye Tibet della regista austriaca Maria Blumenkron. La premiazione del concorso, che ogni anno segna l'Oscar degli Oscar del Cinema di Montagna, si è svolta martedì 14 agosto presso la Sala dei Congressi del Centro Polivalente di Paltournage. A valutare la qualità dei film in gara, una giuria di tutto rispetto. Da Mattias Funk, nipoto di Arnold Funk, regista e pioniere del Cinema di Montagna, al documentarista italiano Pino Brambilla, fino all'alpinista Eloise Barbieri. Il consiglio è sempre sostenuto, il Cinema Mountain Festival di Valtournage Cervigna, ma soprattutto una sfida alpina da una parte e artistica dall'altra. Quindi le istituzioni sono chiamate a creare queste condizioni e proprio il consiglio regionale, tutto, l'ufficio di presidenza, tutto, ha deciso di sostenerlo nuovamente in un momento comunque anche di grandi difficoltà economiche. La sfida, come abbiamo potuto vedere, è molto alta, la qualità molto alta, veicolo comunque anche di promozione della Valle d'Aosta, veicolo di promozione delle nostre montagne, dei nostri 4.000, ma soprattutto veicolo di promozione legato alle emozioni, al vivere la montagna realmente, a trasmettere quello che è un qualcosa di artistico e nello stesso tempo comunque creare le condizioni fucina di nuove persone che si avvicinano comunque al cinema e che possono mettersi in discussione. Il programma, condensato in sei giorni, anche quest'anno è stato ricco di spunti, dalle peripezie verticali di Adam Ondra, l'Harry Potter della Roccia, alla marcorda e grandi discesisti del passato, più o meno recente, fino all'alpinismo con la maiuscola. Il festival è andato molto bene fino alla sua prima serata che è stata dedicata allo sci a Cervigna. C'è stata un'ottima affluenza durante tutto il festival. Il pubblico ha apprezzato in particolare i film in concorso. C'è gente che ha seguito un po' tutte queste nostre proiezioni, che sono tante comunque, perché alla fine sono 16 film, poi c'erano tre fuori concorso, quindi comunque c'era tanta roba da vedere. Quest'anno, come tutti gli anni, diciamo i film sono differenti, sono degli anni in cui ci sono più film dedicati all'etnografia, all'antropologia, alla vita in montagna e altri in cui ci sono più film di alpinismo, come è il caso di quest'anno. Ci sono stati molti film di alpinismo, ovviamente che trattano alpinismo in maniera diversa, alpinismo puro, piuttosto che rampicata pura, eccetera. Comunque il livello ovviamente è sempre più alto, man mano che passano gli anni, le tecniche, le macchine usate, insomma, tutto si alza di qualità. Una qualità riscontrata anche negli altri film che hanno ricevuto un riconoscimento. Il premio del pubblico se l'ha giudicato il Valdostano e il Véber Mass, con Non Così Lontano, che ha come protagonisti tre dei nostri fiori dell'occhiello, il Monte Bianco, il Monte Cervino e il Monte Rosa. Il premio Eco Mountain, invece, è andato a Viktor Kosakowski con Vivan les Antipodas, pellicola di grande effetto giocata sull'accostamento di immagini catturate in luoghi opposti del globo. Il film con le immagini più belle, ha giudicatosi quindi il premio Sony, è stato Voyage au bout de l'iver di Anne-Éric Lapier, apprezzato per la padronanza tecnica delle riprese spesso effettuate in condizioni al limite del pericolo. Infine, a Bertrand de Lapierre, con Grand Libre o Grand Cup, è stato assegnato il premio Kai, mentre il premio Vide Montagne è andato Michele Trentini con Piccola Terra.